Il fatto di sangue, ossia la sparatoria, è avvenuta in prossimità di Torvajanica. Come? No, non risulta che il commissario Sarti sia rimasto ferito. Ripetiamo, ordine di togliere i posti di blocco sulle autostrade. Restiamo in attesa di ulteriori... Sì. E le coppie se ne vanno via, quanto s'è bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli. Sì, e le finestre, so tanti occhi, che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che e il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone. c'è Una carrozzella va, tu stranieri, un rubi vecchi te chiede un po' del bracci. Li basteracci, so usignoli, io ce son nato a Roma, io d'ho scoperta, stamattina, io d'ho scoperta. Oggi mi sembra che il tempo si è fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la tantità del cuore. E so più vivo, e so più buono, non te lascio mai. Roma capoccia, il mondo infame. 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 Sì, ciao.